Uniti contro ogni tipo di violenza sulle donne, l'assessorato pari opportunità del Comune di Como insieme con le associazioni femminili del territorio e l'ufficio della consigliera di parità della provincia ha organizzato per sabato l'iniziativa Como con Malala in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, giornata istituita nel 1999 dall'Assemblea delle Nazioni Unite. Si parte alle 11.15 in Piazza Verdi dove si riuniranno i partecipanti, poi il corteo si sposterà alle 11.30 a Palazzo Cernezzi. Noi l'abbiamo vista declinata in un senso non tanto del piangerci addosso su quello che può essere la violenza ma di che cosa fare in futuro per evitare altri episodi gravissimi di violenza. Ci sarà un flash mob per sollecitare tutti ad intervenire e a partecipare. Punto di partenza è la figura di Malala, giovane donna pakistana che è stata ferita quasi mortalmente dai talebani perché lotta per il diritto all'istruzione. Verranno lette poi frasi e pensieri di donne celebre sul concetto di femminilità. Si vuole insomma sensibilizzare ancora di più la popolazione sulle violenze, i soprusi e le discriminazioni che l'universo femminile subisce ancora oggi in vista di un futuro migliore. Sono ancora tantissimi i casi di discriminazione. Poi lo vediamo, noi siamo in un'isola felice nella nostra giunta, abbiamo quattro donne su nove assessori compreso sindaco. Ma in linea di massima l'accesso ad esempio alle stanze del potere è molto, siamo molto sottorappresentate nelle stanze del potere. Quindi senza pensare ora ai femminicidi e a queste cose gravissime però è un dato di fatto che c'è ancora una discriminazione femminile e quindi c'è ancora una questione femminile assolutamente da affrontare.